Ciao a tutti! Ebbene sì, ho traslocato di nuovo! Questa è la terza volta in... nemmeno due mesi? No dai, in due mesi circa. Però, a differenza della scorsa volta in cui il secondo trasloco non era previsto e è stato abbastanza traumatico e spiacevole, in questo caso sono molto molto più contenta perché finalmente siamo in un posto definitivo. Da qua per almeno qualche anno non ci sposteremo e soprattutto questa pian piano diventerà la mia casa dei sogni. Pian piano riuscirò a sistemare tutto, intanto mi guardo ancora attorno perché è un ambiente ancora nuovo per me. Pian piano, dicevo, sarà il mio spazio. Non abbiamo ancora tutto qua in casa, chiaramente, però avrò una libreria, è già negli scatoloni di là, non vedo l'ora di montarla. Come essere felice delle piccole gioie. Ho già un bellissimo mobile tv qua davanti a me, dove pian piano metterò tipo i bri di cucina, alcuni fumetti, il tavolo è qua. Devo solo sistemare un po' di cose, però sono super super contenta perché sarà tutto come finalmente volevo. Quindi sì, nonostante il trauma di dover di nuovo spostare tutta la roba, aggiunta al fatto che dall'altra casa eravamo al terzo piano e anche in questa casa siamo in un piano molto in alto, quindi su e giù, su e giù, qui ancora non funziona l'ascensore, quindi dover portare tutte le cose super pesanti a piedi non è esattamente il massimo, non è facile, lo stress comunque di dover di nuovo cambiare casa, qui ancora ad esempio non c'è riscaldamento, quindi altro piccolo trauma. Di fuori è tutto ghiacciato e qui in casa fa freddissimo, però vabbè, a parte queste cose, adesso non so raccontarvi tutto perché sono cose noiose, a parte tutto però sono contenta di questo nuovo trasferimento e sono contenta di poter finalmente girare questo video oggi, che è il 14 di gennaio, il compleanno del canale di Chips The Way, poi per chi non lo sapesse il 14 è un numero che a me piace tantissimo, il 14 è anche il giorno dell'anniversario mio e del mio fidanzato, non sto a farla lunga perché ho tutta una mia teoria sui numeri, però è un numero ricorrente nella mia vita che quindi mi piace molto e sono contenta finalmente di poter girare questo video adesso, perché in realtà dovevamo venire qui un po' prima, però se avete mai avuto esperienze con quelle case saprete sicuramente che va sempre tutto storto, quello che può andare storto, ci sono vari imprevisti, ritardi, poi c'è stato il periodo delle feste, quindi i ritardi si sono accumulati, vabbè, altre cose noiose, andiamo avanti. Trasloca a parte c'è però un'altra grande novità che volevo condividere con voi e che non so bene com'è annunciare, quindi lo dirò semplicemente e basta. Fra meno di 200 giorni mi sposo. Fa strano dirlo ad alta voce così, nonostante io appunto abbia già avuto tantissimo tempo per dirlo ad amici, parenti, eccetera, insomma abbiamo già iniziato ad organizzare tantissime cose, visto che appunto abbiamo deciso di sposarci già da un po' di tempo, però appunto non lo avevo ancora condiviso con voi. e lo so che in questi casi si tende a mettere subito foto e video dell'anello, che sì, è questo qui, l'anello, e un mio Dio mi sposo, un mio Dio sono fidanzata e quindi cambio lo stato su Facebook, lo metto su Instagram nella bio e faccio questo e faccio quell'altro, però sapete che io sono una persona riservata, che non sono così e soprattutto per quanto riguarda la mia relazione sono sempre stata molto molto riservata e le cose non cambieranno ovviamente da oggi in poi. Ovviamente non è un segreto che mi sposo, non è una cosa che ho tenuto nascosta, semplicemente non l'ho esplicitata, diciamo. Per i primi giorni in realtà cercavo di tenerlo per me, non l'ho detto subito nemmeno agli amici più stretti, eccetera, perché volevo gustarmi un po' il momento, il pensiero del ci sposiamo veramente, adesso iniziamo a organizzare, a fare, anche se in realtà in una settimana o due avevamo già in mente tutto, che cosa fare, forse perché stando assieme da così tanto tempo magari abbiamo avuto già tempo di pensare a che cosa ci piacerebbe fare, a che cosa è importante per noi e sì, parlerò sempre al plurale perché nonostante si pensi che il matrimonio riguardi principalmente la sposa e deve essere tutto come vuole la sposa, eccetera, eccetera, in realtà noi siamo in due e ci sposiamo non perché è tanto tempo che stiamo assieme, quindi è lo step successivo, non perché magari se lo aspettano gli altri, perché uso costume o altre cose, ma perché ci abbiamo riflettuto tanto assieme. Sempre a proposito del insieme, una cosa che all'inizio ho trovato strana e che col passare del tempo invece, appunto tenendola un po' per me, cercando di metabolizzare, di vivere in maniera intima questo momento, per me molto molto speciale, è il fatto che il mio fidanzato non mi ha chiesto mi vuoi sposare, ma mi ha chiesto ci sposiamo. Mi sono resa conto di quanto questa frase rifletta tantissimo il tipo di rapporto che abbiamo il mio fidanzato, ovvero un rapporto in cui ci rispettiamo, ci amiamo, in cui siamo totalmente alla pari e in cui ci sposiamo perché è un passo che siamo pronti a fare economicamente, mentalmente, emotivamente, qualsiasi altra cosa e che appunto sentiamo tutti e due che è giunto il momento di fare e che vogliamo entrambi fare. Non perché ce l'ha chiesto qualcuno, non perché è tanto tempo che stiamo assieme, e quindi è l'arrivo perché non vediamo il matrimonio come un punto di arrivo o come un traguardo o non è mai stato un obiettivo. Io ho sempre sognato un giorno di sposarmi e quando ero adolescente immaginavo tutto rose e fiori come si sogna sempre da bambine, però poi chiaramente cresci, ti rendi conto che non è tutto rose e fiori, che ci sono tante responsabilità, che il matrimonio non è una festa, tipo il compleanno, anche se molte persone la prendono così, ma che è un impegno che si prende, da cui derivano delle spese anche indifferenti, diciamo soprattutto se magari alle spalle non hai qualcuno che è disposto a sganciarti qualsiasi cosa per avere la tua festa dei sogni. Comunque, fatto sta che crescendo appunto continuavo a desiderare di sposarmi, ma comprendevo anche che non c'era, diciamo, fretta. Sarò sincera con voi, non ho mai sentito pressione di dovermi sposare, perché comunque io stavo bene con il mio fidanzato, avevo, diciamo, altre priorità, però un paio di anni fa ho iniziato a sentire dentro di me che era il momento e avevo quasi fretta arrivata a quel punto e non riuscivo a capire da dove derivasse questa fretta, volevo assolutamente sposarmi, ne parlavo anche spesso con il mio fidanzato, e l'ho capito poi l'anno scorso quando ho poi perso questa fretta, perché quello che per me era importante, che sarebbe stato molto importante, era passare il mio giorno speciale, il mio matrimonio assieme alle persone per me importanti e a cui volevo bene. e nonostante i miei nonni fossero molto giovani, diciamo, purtroppo sono morti che avevano 70 anni, quindi io mi immaginavo che avessero ancora tempo, no? Che soprattutto mi avrebbero vista sposata, avrebbero visto almeno uno dei miei figli e quindi forse un paio di anni fa ho iniziato a sentire fretta, perché sentivo forse inconsciamente, non lo so, di volere, soprattutto mia nonna, e quindi sentivo che era il momento, perché non volevo perdere l'occasione, quando poi i miei nonni sono morti, ho perso, diciamo, interesse, non sentivo più quella spinta, perché non riuscivo a immaginarmi quel giorno, senza di loro non sapevo come sarebbe andata, che cosa avremmo fatto, e poi abbiamo avuto altre cose a cui pensare, la casa, il trasferimento, insomma, tante cose, e però sono contenta alla fine che quest'anno, che fra pochi mesi ci sposiamo, perché quando il mio fidanzato mi ha chiesto ci sposiamo, mi ha detto anche che però c'era una condizione, che ci dovevamo sposare a Budapest, perché in questo modo saremmo stati vicini, almeno, diciamo, con il pensiero, ai miei nonni, e questo mi ha reso molto molto felice, quindi fra pochi mesi mi sposerò a Budapest, appunto, con il mio fidanzato, e sono molto contenta. Queste erano quindi le poche poche novità che avevo oggi, che avevo piacere di condividere con voi, io spero veramente che questo anno sia un po' il ripartire, visto che lo scorso anno, in realtà gli ultimi due o tre anni, sono stati veramente terribili, spero davvero che questo nuovo anno mi porti comunque della nuova felicità. Secondo Paolo Fox, questo è l'anno del toro, ovvero il mio segno, io non ci credo, però comunque voglio essere fiduciosa, non perché credo nell'oroscopo, anzi, proprio zero, però mi fa sorridere, ma perché penso a tutti i grandi progetti che abbiamo, al fatto che, anche se con tempi diversi, magari da quello che mi aspettavo quando ero molto piccola, sto riuscendo ad essere felice della mia vita, e pian piano ad ottenere quello che mi serve per essere felice, per essere serena, e sono contenta di sposarmi con l'uomo che amo. L'unica persona con cui io mi riesco a immaginare sposata, anche se, ripeto, non penso ci siano differenze, noi comunque viviamo assieme, ci amiamo da tanti anni, continueremo ad amarci, il matrimonio non sarà un punto di arrivo, non aggiungerà, non aggiungerà, diciamo, valore al nostro rapporto, però è un passo che sentiamo di fare, che vogliamo fare assieme, quindi sarà come iniziare un nuovo step in questa grande avventura che è la nostra vita insieme, quindi io sono molto molto contenta di questo, e non voglio essere più sdolcinata o dire altre cose, insomma. E niente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!